Gli ultimi video Guardare nel live quando sta giocando a caso e vedere che mi sa tutto poi quando si impegna nel torneo diventa un trattore a una certa un po' ambiguo Meno che un problema di gatto Lara non dire cazzate lo volevi comprare veramente punto e basta non dire cazzate devi essere come me l'hai detto eh come me l'hai detto Mello dici a tutti non interessa se dopo sembra che veramente soffermi come me l'hai detto Mello allora lo volevo comprare no? io volevo comprarlo per provarlo e vedere no? perchè era lì inizio dove tutti dicevano che chiunque soffermasse no? Siamo in 4 c'è ancora un buco di culo in giro che non so dov'è che è quello che mi preoccupa di che cosa cazzo fai la pigna figa vuoi ne fare un big vuoi ne fare un big holda wait holda me lo prendi, me la prendo c'è un altri box è riuscita a chillare? guarda che li ho trombati è cura di vita no sono mini ne ho un po'新ato 120, 120 Marta 1, Marta 1, Marta 1 Tu non hai messo a me 80, 1 hit 1 hit dietro di voi ragazzi Arriva C'è scatti, è vero Rambo Facciamo un controllo di visuali che fa sboccare Non so come fanno a ficcare dentro i colpi Eh Comunque alla fine di quella clip Ficca dentro un altro colpo in testa Uno che sta tendendo Che sta volando no ragazzi io non so da mk perché io non gioco da mk ma sta cosa è impossibile da pad è impossibile ma lascia stare che da mk puoi farla da pad no ma il problema è che sta sparando che cazzo stai facendo polco dio sebbene giocare in queste condizioni parliamone 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 io stavo fightando lui dove ha il bidone lui si vede benissimo lui si vede benissimo che sta sparando sopra di lui e non su di lui ma c'era ma anche se forse chat chat porca di quella puttana anche se forse ma sapete in CSGO tutti quei giochi là quante volte succede che uno c'è il cross un tizio dentro la smoke un tizio dentro world sapete quante cazzo di volte succede sapete quante sono volte succede ma porco dio ma vi svegliate ma vi svegliate ma vi svegliate orca madonna vabbè come facciamo 35 pushano in 4 simone questi giocano in 17 si che sono morti eh qua socio si c'è questo c'è tipo il peperoncino piatto a un macello questo oh simone molto molto distaccato cioè non c'è nulla di personale con temper anzi è temper che poi mi ha insultato su instagram però io non ne ho insultato nessuno beh però ci vediamo al gamesweek insomma insomma qui la situazione è un po' sgravata insomma la vorrei rivedere beppe insomma eh insomma oh cazzo porco dio ma moca te la dittura stai aggai ieri cisu no era fatto no signori miei bella per gioen applausi mamma madre questo qua l'ho proprio clippato fratello questo l'abbiamo proprio clippato ragazzi hard proprio clippatemi questa qua che voglio rivedermi all'allentatore questa qua è veloce pure all'allentatore ve lo dico che cazzo sarà che sarà sarà no scusate non finiva non finiva così non finiva così andiamo aspetta aspetta per fare questa roba è un cheat della madonna tipo 250 euro al mese ma in realtà non è vero come rimorchiare smr ma cosa sto guardando ha guardato 23 minuti di video come baciare con passione no è meglio del softame questa attenzione come baciare con passione ma che cazzo alessica no ragazzi fermi non è vero non facevo l'ultimo non facevo triccicib bello eser cosa sta Tranquillo 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 gli ha fatto un 128 traccato Isimo cacchino morto. Fai un attimo farlo giocata No dio va beh che stava giocata 46 airshot mongralata Clipato la cazzo me ne sbattico Non ci posso credere 3 di vita Sei veramente un attivo Hai appena acceso Chiudi guarda leggila Leggila io metto i cartelli Porco dio per non essere letti Va bene no uno mette comunque i cartelli Uno mette i cartelli Cioè non è di che non ci stanno Cioè ci stanno i cartelli no Si Eh la comunque Secondo me ce la fa Eh Eh ragazzi non ce la fa ragazzi Non lo so E ce la fa e tanta roba Eh il 48 48 bellissimo Ce la fa ragazzi per me ce la fa Oh signore No vabbè Oddio Il giocatore Smechi Mamma mia Mamma mia Poi te sei riporato Smechi Lo ha detto e ce la facevam